10 5 4 3 2 1 vai sinistra 4 piena 100 anticipa accenno sinistro urla anticipa accenno sinistro accenno sinistro e destro tieni tieni vai giù vai giù destra 3 più 3 più inserisci a rovescio accenno sinistro 20 sinistra 3 lunga gira inserisci e tieni giù vai vai tieni tieni bravo a rovescio accenno destro diventa 4 vai tieni giù tieni giù tutto tieni 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 50 a cartello sinistra 4 gira sale vai 20 tieni tieni bravo destra 4 tieni 30 qua tieni 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 giù vai attenzione la cassetta destra 2 sale subito sinistra 2 sale e destra 2 gira subito sinistra 3 più 3 più 20 sinistra 2 più più 20 20 sconnessi vai anticipa a rovescio sinistra 4 lunga tieni vai vai tieni giù tieni 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 anticipa a sinistra 3 più anticipala e accenno destro accenno destro vai taglia a sinistra 3 meno sale tieni 3 meno sale tieni attenzione finera il tornante destro largo sfiora accenno sinistra accenno destro questa è la fei dritta anticipala anticipa stai là vai subito a sinistra 5 tieni stai da senti muro 100 vai attenzione al giallo stacca centrale sconnessa per il tornante sinistro largo 50 fine rail destra 4 tieni fidati 4 tieni diventa rovescio stacca tornante destro largo sfiora a sinistra 4 in due tempi gira tienila tienila bravo accenno destro sfiora stai centrale anticipa destra 4 più e a cartello sinistra tieni bravissimo a cartello sinistra 3 e 20 vai tieni giù tieni giù e lascia qua fuori destra 3 lunga sconnessa fine sinistra 4 più vai 50 qui tieni giù tieni giù c'è 50 accenno sinistro tagliano accenno destro molta attenzione inversione sinistra di leva 20 destra 4 e alla staccionata tornante destro tornante sinistro piano che se no fai come prima 30 destri e al quadro anticipa sinistra 2 tienila 20 contosso fine piano piano bravo Aldino pin piano piano Grazie a tutti.